I mitici bruciagrassi, datteri ripieni con tofu e noci. Ciao amici, come dite, i datteri sono nel periodo natalizio? Ma no, provateli così, non potrete più farne a meno. Il nome deriva dal termine greco dactulos, cioè dito, che richiama la tipica forma allungata di questo frutto esotico. I datteri in arabo sono vero cibo per i viaggiatori. Secondo i beduini del deserto si può vivere per anni di soli datteri e acqua. Secondo la yurveda sono energizzanti in caso di stanchezza e anche utili per i disturbi di colon e stomaco. Nelle giuste quantità attivano il metabolismo e danno energia, quindi la ricetta di oggi si può dire bruciagrassi. Ideale come sfizio anche se state già seguendo una vostra dieta. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco come si prepara. Datteri ripieni, tofu e noci. Ricetta vegana per due persone. Quattro datteri morbidi, 40 grammi di tofu al naturale, due gherilli di noce, la scorza di mezzo limone, la scorza di mezza arancia, quanto basta di marsala e quanto basta di polvere di zenzero. Tempo di preparazione circa 10 minuti. I suoi pregi principali, energia e leggerezza. 1. Preparazione dei datteri. Tagliate i quattro datteri a metà, togliete il nocciolo e disponete le otto parti su un piatto da portata. Spolverate l'interno con un pizzico di polvere di zenzero. 2. Preparazione del tofu. Frullate il tofu con le scorze di arancia e limone e un goccio di marsala fino a ottenere una crema. 3. Farcitura. Farcite i datteri con la crema di tofu. 4. Presentazione. Decorate ogni dattero con mezzo gheriglio di noce. Se volete potete lasciare in freezer per qualche minuto oppure servire subito. E sarà sempre Natale e datteri tutto l'anno. Proprietà degli ingredienti principali. I datteri sono un frutto energetico ricco di fibre, vitamine e minerali tra cui ferro. Alleviano le infiammazioni. Il tofu è ricco di proteine vegetali, è energetico, facilmente digeribile e contiene pochi grassi e carboidrati. L'arancia contiene pochissime calorie ed è l'ideale quando si vuole perdere peso. Ricca di vitamina C è un potente antiossidante. Il limone purifica e disintossica l'organismo. È un antiossidante che riduce il colesterolo. Inoltre svolge un'azione antibatterica. Le noci sostengono il metabolismo e aiutano a perdere grasso a favore della crescita muscolare. Sono amiche della salute delle ossa. Lo zenzero facilita la digestione e contrasta la pancia gonfia oltre ad attivare il metabolismo e avere proprietà bruciagrassi. Per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. E ora buoni datteri a tutti! Se mangi consapevole vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video! Nel frattempo, ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente! Ciao!